Prosegue la mostra Battipaglia prima di Battipaglia, curata dall'architetto Maria Rosaria di Filippo, in programma fino all'11 novembre del 2018 nel polo espositivo della De Amicis, con la collaborazione del Museo archeologico provinciale di Salerno e dei Musei archeologici nazionali di Eboli, Ponte Cagnano e Pestuma, della sovrintendenza archeologica Belle Arti e paesaggio delle province di Salerno e Avellino. In questi weekend tanti i visitatori. L'obiettivo è raccontare al pubblico i secoli di storia della città di Battipaglia, dal periodo neolitico fino all'arrivo dei Romani.